Il primo SMS del mondo è stato venduto a 107.000 euro. È quello che ha fatto la Vodafone di recente, il colosso inglese per eccellenza, delle telecomunicazioni, riuscendo a vendere all'asta, come token non fungibile, il primo messaggio di testo inviato nel lontano 3 dicembre 1992, a comprare l'SMS, un offerente anonimo, di cui non si sa né nome né cognome, non si sa nulla. La cifra a spesa, vi ricordo che verrà donata alla UNHCR, ossia l'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati. E proprio ieri, alle 15.38, dopo 38 minuti, il martello del banditore d'asta si è andato a fermare. La AgutCloud va a chiudere l'asta di Parigi e ha consegnato al nuovo proprietario la vendita di questo primo SMS, il primissimo del mondo, una cifra epocale, 107.000 euro circa in totale. Iscrivetevi al canale di YouTube, canale di italiano, commentate. Un saluto caro a voi e al prossimo video.